Questa mattina fa molto freddo Ci sono 9 gradi, 9 gradi Alle 11.59 11.56 vabbè Oggi è domenica 29 novembre 2020 E finalmente la Lombardia è diventata zona arancione Finalmente Così si può uscire in compagnia Dopo tanto tempo Si può andare in giro in macchina Si può andare fuori qualsiasi cosa Dalle 5 del mattino Alle 22 di sera Finalmente dopo tanto Buona giornata a tutti quanti Buon appetito A stasera